ciao ragazzi ciao ragazze allora lo stesso video va anche in smr ora non so se metto penso che metto prima questo qui normale e domani metto quello lì in smr niente allora ragazze decoriamo ho fatto una parte di decorazione sull smr ora decoriamo il quaderno il quaderno del cuore della gratitudine come avevo detto anche dall'altro lato devo farne uno piccolino ragazze proprio di quindi di 20 fogli per le password perché sennò devo prendere sempre la moleskin perché tengo due tre pagine di password e non capisco niente e quindi mi voglio fare anche un quadernetto piccolino infatti forse lo faccio anche come si chiama lo faccio tipo quello lì piccolino o come si chiama quella agenda cinese comunque non mi ricordo come si chiama ragazze allora ragazze continuiamo a fare qualche decorazione allora come vi avevo detto che ero andata dal cinesino i washi tape che mi avevano detto cioè allora ragazze questa cosa vuole se il mio canale non piace perché giustamente non puoi piacere a tutti ci sta il tastino cancella cioè nessuno deve vedere per forza il mio canale io non costringo nessuno a guardare il mio canale assolutamente perché anche allora se io anche a me può succedere non mi piace quel canale non mi scrivo ma non è che mi non mi scrivo magari se non mi piace oppure vado a mettere di commenti sotto che a volte io non capisco nemmeno perché le persone fanno determinati con me il mio canale allora io il canale posso cambiare è mio quindi domani mattina lo posso chiudere lo posso tenere ancora aperto posso mettere tutti gli argomenti che voglio io il canale di youtube per me non è mai stato non devo fare i soldi con il canale di youtube perché le mie come si dice io aspiro ad altre cose che sto anche attendendo quindi non è il canale di youtube sinceramente noi è libera di fare il canale che vuole lei cioè domani ci possono stare quattro video dopo domani chiudo il canale io posso cambiare i nomi quante volte voglio io allora le critiche io le accetto queste critiche ma non continue perché questa persona mi segue ma di tutto io non tengo il canale da un anno lo tengo da otto anni e se io voglio far diventare il mio canale prima di tutto nessuno lo sa se io se i canali salgono se non salgono però quando le persone dicono queste cose continue e poi come per esempio il bushi tape mi vai a scrivere no quelli sono tre non è vero è attaccato tutto insieme lo vedi che è attaccato tutto insieme e quindi è attaccato tutto insieme se io lo voglio tagliare lo vado a fare tre cose ma mi piace proprio tutto insieme a me perché se la ragazza mi ha detto il bushi tape è fatto tutto insieme io ci credo a quella che mi dice la ragazza del cinesino no perché credo nelle persone e quindi basta con qui è una volta una cosa è una volta un'altra cosa è sempre perché io poi me ne accorgo quando sono sempre gli stessi nomi fino a un certo punto poi non si può essere più buone ci sono dei canali che non rispondono proprio più non rispondono e da oggi in poi non rispondo nemmeno io fino a un certo punto poi non rispondo più e comincio a essere meglio prima meglio di lì ma a me tanto io non devo diventare famosa su youtube youtube per me è un hobby soprattutto quando vedi questi canali tutti che fanno i film a me non me ne frega se non mi piace se il canale non mi piace mamma mia cancellatevi cancellatevi e quindi apro parentesi chiudo parentesi ai commenti ai commenti non rispondono nemmeno più le persone che fanno critiche sono di continuo perché queste diventano critiche di continuo e poi un'altra cosa devi studiare ma devo studiare che perché che devo studiare devi diventare una youtuber non me ne frega devo studiare che iniziamo con la decorazione nella smr avevo attaccato questo ora andiamo a fare i contorni di questo facciamo poco di decorazione pure qua perché mi piace il rosa facciamo con il rosa che poi fa questo rumore che secondo me diciamo che questa tipologia forse è più bella in smr e infatti ragazze non lo so fatemi sapere perché forse la faccio solo in smr perché secondo me si sente il suono della penna il fuscio della carta perché non è come l'agenda il bullet journal e quindi richiamiamo è perché si sente lo spedito si sente quando si sente secondo me nell smr si è sentito qui non lo so la decorazione quindi datemi un consiglio ragazzi secondo me la decorazione è più bella farla solo in smr questa tipologia di cose mettiamo il giallo vedete perché si sente proprio il suono che si sente anche con il lavaliere addirittura io volevo usare ragazzi infatti quando quello va domani quello in smr volevo usare il blu eti però davide mi deve aggiustare il filo non mi piace il filo come come è strano verde 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 secondo me lo vedo più adatto a colorare che si sente il suono quello voglio voglio cercare di farlo con il blu eti questi video così e quindi ragazze troppo educate non si può essere non c'è niente da fare io tengo 55 anni e ancora non imparo che troppo educate non puoi essere perché è normale ragazze noi non possiamo piacere a tutti quanti però fino a un certo punto io youtube ragazze lo faccio perché mi fate compagnia punto no perché voglio diventare la youtuber famosa se uno spera di fare i soldi con youtube oppure aprite voi un canale aprite un canale invece di commentare e fare solo le critiche aprite anche voi un canale voglio vedere che fate quattro volte cinque volte il canale è della persona che apre il canale quindi siete d'accordo con me se io voglio cambiare il nome 40 volte siete d'accordo con me allora se io volevo salire su youtube cambiavo il nome 40 volte oppure mettevo e poi i canali alti mettono tutte queste i canali alti li devono fare perché a me è un canale basso per me 2200 persone non è un canale basso per me e a parte ragazze che io tengo mezza monetizzazione già ce l'ho leggete tengo abbonata quindi youtube io sono comunque una partner tengo la partner di youtube senza guadagnare niente però perché devo arrivare alle 4000 ma certi commenti io non li rispondo più quindi è inutile che scrivete perché non rispondo più ai commenti quindi fate i commenti costruttivi non critiche soprattutto studia ma che devo studiare? addirittura che le persone lo fanno per le visualizzazioni ma che guadagnate? quelle sono persone che tengono 10.000 iscritti guadagnano 50 euro al mese ma avete capito che si può pagare al massimo una bolletta con youtube quindi è un hobby quindi io posso fare sul mio canale tutto quello che voglio e poi a me è youtube che mi dà i consigli non è che lo faccio da sola perché comunque essendo già che tengo gli abbonamenti mi dà i consigli è normale che io poi seguo i consigli che mi dice youtube quindi è assurdo è meglio che non ci penso più ragazzi io non so disegnare bene a meno che io non devo andare a fare il corso di disegno qualcuno mi dice ora tutto mamma mia perciò ragazzi a me piacciono i canali semplici io sono iscritta a tutti i canali semplici le ragazze che fanno i video così in verticale non fanno tutti questi film vedete che io sto facendo di nuovo tutti i video con il microponino ora perché me l'ha regalato Davide il microfono io mi conservai i soldi del compleanno e mi comprai il Blue Yeti però mamma mia un poco di scioltezza ragazzi quella la video qua già è triste ecco qua vedete ragazzi abbiamo colorato quello che avevo scritto che avevo fatto vedete com'è carino ho detto che non so disegnare e mettere le bamboline infatti mi stanno arrivando anche ragazzi i timbrini da Amazon ho preso questi timbrini poi avevo questo l'ho fatto tutto con l'SMR poi qua ora siamo fatemi sapere se vi piace vederli anche normali allora ora qua andiamo a fare qualche decorazione che bello mi piace ragazzi metto tutte queste bambolette per stare in compagnia con voi con tutte le ragazze che mi seguono oppure tante belle persone sia sui canali sui video normali che io tengo tante persone che mi vogliono un sacco di bene sia sui video smr una ragazza le ragazze che mi hanno scritto i video smr sono troppo belle queste ragazze cioè è normale che tu non puoi piacere a tutti quanti questo è normale ragazze non si può piacere a tutti quanti vediamo un attimo a me piace mi piace troppo ragazze fare questa cosa voglio mettere le bambolini appiccicate sopra alla gratitudine al diario mio della gratitudine qua voglio fare ragazze qua voglio fare qualche disegno vabbè poi qua e niente ragazze quindi perché non vi voglio far vedere poi vedete anche quello lì smr e quindi niente ragazze mettiamo tutte le bambolette apposto le bamboline e quindi ragazze principalmente quindi va sicuramente va prima questo video io cerco di metterlo alle 2 perché ce la faccio perché ora sono le 10 e mezza e domani alle 9 va quello lì in smr perché io vi ho detto vi duplico i video così le ragazze che gli piace l'smr vanno a vedere l'smr e le ragazze che gli piacciono i video normali si vedono i video normali e quindi ragazze quindi ragazze i commenti che non tengono delle critiche costruttive sappiate che non vi rispondo più ecco qua e quindi niente ragazze vi mando un bacio al prossimo video